Pace, Dio ti benedica, oggi ho una parola per te, si trova in Isaia, capitolo 43, versetti 18 e 19, dicono così Non ricordate più le cose passate, non considerate più le cose antiche, ecco, io faccio una cosa nuova, essa germoglierà Non la riconoscerete voi? Sì, aprirò una strada nel deserto, farò scorrere fiumi nella solitudine Magari è sicuramente, chissà da quanto tempo ti senti dire che Dio farà qualcosa di nuovo nella tua vita Dio porterà pace, gioia, amore nella tua casa Ma una cosa è fondamentale, quella devi aspettare con pazienza L'attesa è quello che farà la differenza all'interno della promessa che Dio ti ha fatto Dio sta per fare una cosa nuova Dio sta per fare una cosa nuova